numero 6 questo trolley ha una capacità di 30 litri può essere usato in tre modi diversi trolley con spallacci a scomparsa nello schienale o sollevati tramite il crossover system zaino senza sganciare il carrello del trolley zaino sganciato gli spallacci vengono ancorati alla barra telescopica in modo che si sollevino quando usato come trolley ha il fondo rinforzato e doppia barra telescopica con doppia regolazione riceverai con il trolley la pratica borraccia invicta numero 5 il trolley scomponibile di invicta è un trolley uno zaino tutto insieme per il massimo della versatilità basta sganciare il carrello e in pochi secondi si trasforma così lo puoi usare come preferisci ad uso zaino non ti devi portare dietro anche il peso del carrello ad uso trolley è veloce e supera qualsiasi ostacolo anche a pieno carico ha una capacità di 34 litri gli spallacci sono a scomparsa totale quando usato come trolley imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante lo schienale è imbottito trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 le dimensioni di questo trolley sono 48 centimetri di altezza per 35 di larghezza gli spallacci sono a scomparsa totale nello schienale con crossover system tramite l'ancoraggio dei nastri alla barra si sollevano gli spallacci evitando lo sfregamento a terra imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante lo schienale è imbottito e rivestito in tessuto poliestere ecosostenibile disponibile anche in grigio e bordeaux numero 3 questo bellissimo trolley invicta ha una capacità di 34 litri lo zaino è staccabile tramite fibbie laterali doppio scomparto doppia barra telescopica comode ruote fondo rigido preformato e rinforzato per garantire la stabilità del prodotto e la protezione del contenuto ha una chiusura a cerniera il tessuto è resistente in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 2 ottima offerta due in uno un comodo trolley invicta e un astuccio lo zaino ha spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto a scomparsa totale nello schienale quando utilizzato come trolley lo schienale è imbottito e rivestito in tessuto il contenuto dell'astuccio comprende 1 penna a sfera cancellabile blu 1 penna a sfera rossa 18 pastelli a colori giotto laccato 18 pennarelli giotto turbo color 1 matita 1 colla stick 1 paio di forbici 1 gomma 1 temperino 1 righello disponibile anche nel colore rosa numero 1 il trolley invicta ha tanto spazio per metterci tutto quello che vuoi i libri per la scuola ma anche quello che ti serve per un weekend fuori porta lo puoi usare come zaino e come trolley ha una capacità di 35 litri una barra singola telescopica con doppia regolazione ruote spallacci a scomparsa totale nello schienale quando lo zaino viene utilizzato come trolley fondo preformato integrato per garantire la stabilità del prodotto e la protezione del contenuto ottimo prodotto se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione